La Polizia Locale a scuola di tecniche operative. Il Servizio Enti Locali della Regione Sardegna, in collaborazione con la Polizia Locale di Nuoro, ha organizzato questa mattina, presso la palestra comunale di Via Tolmino, il corso di alta formazione specialistica teorico-pratica per il personale dei comandi di Polizia Locale per il Bienio 2022-2023. Il corso, aperto a tutti i comandi della Regione e tenuto dall'Associazione Professionale International Police Training System di Napoli, ha portato nel capoluogo barbaricino le polizie locali di ben 36 comuni, da Barissarda a Baonei, dalla Maddalena alla Nosei, fino ai comuni dell'Unione dei Comuni del Margine. Obiettivo? Fornire le basi per uniformare i protocolli operativi di sicurezza per il personale di Polizia Locale, soprattutto per adeguare le sue competenze a quelle necessarie nel 2022 per garantire adeguatamente la sicurezza dei cittadini. Questo corso si inserisce in una serie di corsi che la Polizia Locale, in collaborazione con vari enti, in questo caso con la Regione per quanto riguarda lo specifico, sta organizzando per migliorare la qualità del servizio, perché il nostro diventa sempre più un servizio di polizia analogo alle forze e alle altre forze di polizia. E quindi bisogna delle competenze, sicuramente è necessario che le competenze siano tali da poter dare il miglior servizio al cittadino. Nell'ambito del corso di stamani si parla di sicurezza, sicurezza nell'approccio degli interventi, ma proprio per garantire la massima sicurezza non solo ai miei operatori, che devono intervenire in ambiti piuttosto pericolosi, ma anche per i cittadini stessi, perché un servizio qualificato si traduce in sicurezza. Grazie.